Il fascino della città vecchia con quelle perle, con quelle oasi di artigianato, di antichi mestieri. Vi trovo qui in Via Duomo e ho al mio fianco Vincenzo Santoro, un maestro artigiano di piccoli manufatti, una bottega che sa tanto di storia, di antichità, di tradizioni, di cuore. Ecco, l'idea di ripristinare nella città vecchia, di tramandare questi antichi mestieri, sfruttando i vari locali comunali che sono vuoti, abbandonati, un modo per insegnare ai giovani qualcosa. Non solo un mestiere, anche la vita, come si vive. Maestro, e allora, siamo vicino alle sue meravigliose creature, tanti sogni, però l'amministrazione non ha mai dato una mano. Quindi dovete sapere che io ho vissuto per 32 anni in Lombardia, poi 8 anni fa sono rientrato, da pensionato perché ho lavorato una vita, e il mio sogno era quello di ricreare il gruppo folcoristico Tarantino. E' inutile che vi sto a dire che all'epoca promesse tante, ma come vedete di fatto niente, solo promesse. Ecco, maestro, parliamo delle sue creature, della sua attività. Sì, allora, ho fatto questa premessa perché non avendo più fatto niente con quel discorso, con quel progetto, mi sono sempre guardato in giro, ho visto sempre cosa manca. Così, ho visto che a Tarantino mancano i souvenir, mancano gli artigiani che fanno i souvenir, che poi ragazzi, è un lavoro di tanta pazienza, ma non è un lavoro impossibile, difficile. Come vedete, io creo questi souvenir, che sono fatti in gesso alla... I perdoni. Ecco, i perdoni. Un gesso lucido, vedo. Sì, è lucido questo qua, il prodotto appena esce, poi c'è tutto da dipingerlo e tutto lavorarlo, sia ben chiaro, questi li vendo a 2 euro, quindi il lucro qua sopra non esiste per niente. E allora perché li faccio? Li faccio perché ho l'orgoglio di portare questo nome, badate bene, questo nome, questo nome, Tarando, in giro per il mondo. E non solo con questi, io sono riuscito a portare in un modo egregio il nome di Tarando in giro per il mondo, ma anche con questi altri manufatti, guardate. Ecco, questi sono dei gusci, dei gusci di cozze che io recupero, poi li elaboro e come vedete anche qui c'è scritto il nome Tarando. Bene, lasciatemi questo orgoglio che io con la buccia delle cozze, con tanta buona volontà e senza spendere tanto, riesco a portare in un modo egregio il nome di Tarando in tutto il mondo. Certo potrei portarlo ancora meglio, certo mi sarebbe piaciuto ora che arrivano qui i croceristi e aspettarli giù in banchina con il nostro gruppo polcoristico, con le nostre canzoni. Resta sempre un sogno nel cassetto, spero di vivere abbastanza e spero che un giorno trovi qualcuno che realmente mi dia una mano, perché ripeto, non voglio fare la cover di Lucio Battisti, io voglio fare la cover del maestro Nasole, con le nostre origini, le nostre canzoni, le nostre tradizioni. Ed è quello che io cerco di portare, spero in un modo egregio, in giro per tutto il mondo. Maestro io le faccio una promessa, intanto far sì che questi suoi sogni diventino realtà e coinvolgere tanti giovani a imparare un mestiere. Io mi candido sindaco, 21 anni di battaglie, lei le conosce. Vedi, tu devi sapere pure che bottighe come queste, secondo me, ecco lo dico a te con l'augurio che tu possa diventare un futuro sindaco, devi sapere che queste bottighe sono di una grande utilità. Secondo me queste bottighe dovrebbero stare in tutti i rioni, perché io non solo faccio questi souvenir, però sono pensionato, quindi mi diverto a fare un po' di tutto. Allora che succede? Che ora si è rotta la stufa, la signora di sopra e non sa come fare, me la porta qua. E ora si è rotto il fono dei capelli e me la portano qua. Ripeto, lavori che io faccio in forma completamente gratuita. Ma sono tutti quei piccoli lavori. Io l'altro giorno sono andato dalla signora di qua a montargli una mensola, perché non trovava nessuno che ne montava sta mensola. Quindi creamoli questi piccoli laboratori, ma chiamamoli pure laboratori comunali che servono per la collettività. Con gente pensionata come me che ha lavorato per una vita, quindi il mestiere lo conosce, lo conosce abbastanza bene. E parlando di questo, come ti dicevo prima, a me due del cuore vedere passare questi ragazzi con un secchio e una scopa. Ragazzi, ma così, in questo modo, questi ragazzi difficili, le incattivite di più. Ma voi pensate che questi ragazzi sono stupidi? Ma questi non sono stupidi. Se mi date due ragazzi di questi qua, due mesi a me, ma vi faccio vedere io cosa ne tiro fuori? Altro che una scopa e un secchio. Così roviniamo la gioventù. Ma il lavoro c'è, manca la gente specializzata. Se manca la gente specializzata, mancano le botteghe dove un ragazzo impara un mestiere per poi diventare un specializzato. In questo modo cosa abbiamo? Gli scopini. Secchio e scopa davanti alla chiesa di San Cataldo a pulire per terra. No, mi dispiace, non sono d'accordo. Io da quando sono venuto da Milano, che mi sono trasferito qua, non ho visto un vigile a Riona e Tamburri. Ma noi non siamo cittadini di serie B, abbiamo diritto di essere tutelati dalle istituzioni. Venite a farvi una passeggiata a Riona e Tamburri che non si può attraversare una strada, ormai diventata scampia, un quartiere abbandonato a se stesso, così anche come Tarando Vecchio. E poi ci lamentiamo. Ma cosa abbiamo fatto fino a oggi di eventi nella città vecchia? Il nulla. Il nulla. Maestro, tanti auguri. È una promessa che io faccio, nei suoi confronti e nei confronti della città. È un giuramento davanti alla città. E davanti a tutti. Davanti alla mia coscienza innanzitutto. La canteremo da fine giugno, se i cittadini lo vorranno. Speriamo tantissimo Luigi, te lo auguro. Grazie.